Con i lavoratori del pubblico impiego, con finita prudenza, con i lavoratori della scuola, a cui i germini, taglia, posti, salario, futuro, siamo qui con i lavoratori della sanità, a cui il governo, in particolare i sacroni, con i piani di rientro, e non ce la faccio male per votare gli altri posti di lavoro. Siamo qui con i piani di rientro, servizio di rientro, non dirà quei sacroni, stiamo bene, ma anche tu, nel mare della precarietà, che voglio fare l'unità con i lavoratori italiani. E siamo qui ancora, con tutti i due del cuoco, a tutti i due della protezione civile, di Pertalosa e la Fazzia, è un modo per far prendere il mondo, io non ce la faccio male per il nuovo. Grazie. Grazie. Grazie.